Allora domani vorrei fare un'uscita a funghi in solitaria, facciamo un po' un calcolo delle piogge, vediamo un dodicesimo giorno cosa ci dice domani, diciamo che con i millimetri siamo sulla cinquantina, sul posto non c'è il pluviometro potrebbero essere di meno, potrebbero essere di più, domani faremo un tentativo al dodicesimo giorno, vediamo cosa succede a domani. Buongiorno, siamo a settembre del 2024, da poco a fine di piovere, dodicesimo giorno dalla pioggia pesante, vediamo cosa ci offre questa montagna, questi sono i primi funghi trovati, eccoli qua, ha piovuto, questa è la qualità, questa è la qualità, stamattina nei leggi, dei cerretti, qui c'è da emozionarsi ragazzi, guardate che spettacolo, è ancora piccoli eh, la sette e mezza, speriamo che si asciughe il bosco e facciamo qualcuno nella macchia, che sono sempre più grandi, comunque la fungata è ottima, adesso diventa più difficile, guardate qui, vi faccio vedere, uno, due, tre, quattro, cinque, qua c'è uno piccolino, sei che lasciamo, guardate l'entità di questa fungata, una cosa incredibile, se faccio attenzione ci saranno gli altri, l'avevo detto, adesso c'ho la mano piena di porcini, guardate qua cosa c'è ancora, e se guardo bene troverò gli altri, ancora roba piccola, adesso si comincia a ragionare qualcosa di più grande, che cosa vuoi più dalla natura, guarda qua, che perfezione, guardate dove sono i compagni, forse qualcun altro, troviamo questi buchi, forse pure qua c'è qualcuno, ecco, piccolino, ormai l'ho accolto, qua è pieno, questa montagna è piena, stanno tutti sotto, questi sono funghi meravigliosi, però vorrei fare una dedica a un amico di San Giovanni d'Otomio, Matteo De Vita, Matteo questo porcino è tutto per te, è veramente un grande amico, ciao Matteo, è il cristiano cavolavoro, con la testa da fuori, non lo so se è solo veramente, è un bel fungo, è un fungo, è spettacolare ragazzi, sembra una roba, solo l'Etna ci supera, guardate qua che spettacolo, che perfezione, che profondo, un altro spettacolo, faccio vedere, tagliamo questa, tagliamo questa, e no ragazzi, questa è proprio bella, queste sono belli, questa è da vedere, questa è da emozionarsi veramente, e qui è un altro spettacolo, vi faccio vedere, aspettate, guardate che bellezza, uno, tre, quattro, sì ma non è il numero, è proprio la bellezza, non mi interessa che ne faccia dieci, venti, voglio fare pochi ma belli, cioè non è il fatto di contarli, proprio per vederli, che sono belli, adesso si incomincerà a vedere anche da lontano, non lo so se è solo questo qua, però è uno spettacolo, guardate qua guardate, tranne che è solo però, guardate che fungo, guardate che perfezione, è bello proprio, spettacolo, spettacolo, sono appena le 8, purtroppo che devo fare, abbiamo la retina, oggi è una giornata favolosa, eccolo qua il compagno, guardate che è ancora più bello, nascosto, vi dico che è ancora più bello, sarò due, ancora un'intoppata, voilà, 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 parliamo il buco, vediamo se c'è qualcosa qua sotto, non fa niente, così, ne vedo uno in lontananza, bellissimo, per farlo, eccolo qua un altro, testa nera, sempre, poi c'è un altro piccolo, e poi tanto piccolo in azono, adesso sta diventato una cosa esagerata, una cosa incredibile, ne vedo uno troppo bello, eccoli qua, mettiamo qua, ecco questo è proprio bello, guardate, guardate che nero, che nero, guardate che nero, che bomba, però voglio far vedere un'altra cosa, difficilissima da vedere, questo è bello, vediamo quest'altra, nella macchia, guardate cosa esce, purtroppo le riprese non sono delle migliori, però se volete vedere i porcini belli, questo bisogna fare, guardate questi due porcini, che spettacolo, osservate, uno spettacolo della natura. Non potevo parlare perché c'era la maglietta in bocca piena di porcini, un altro spettacolo, ecco di qua. Quattro e due non è che sono tanti ma perché sono tutti belli un altro qua un nero qua c'è un altro nero ma non siamo a posto per niente questa è bella testanita testanita stavo mettendo il ginocchio su questi due qua c'è un altro testanita e qua c'è un altro due non so come me la faccio a buttarsi ma che è bellissimo questa cosa bella che profumo che profumo ebriata bellissimo quello sporco se non sbaglio è lui se non sbaglio è lui vediamo un po' che nero che nero purtroppo me ne sono dovuto andare perché non me li potevo portare più funghi spettacolari non 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 non